In questo percorso narrativo che sta avvenendo pian piano la trasformazione di Bitcoin, quindi prima approcciato come moneta digitale per scambi online, poi oro digitale, bene scarso e poi sempre di più asset di investimento, cerchiamo anche noi di inquadrare come questa narrativa evolve e come la vedono anche all'esterno del mondo cripto, perché il mondo cripto è definibile una bolla, ma non una bolla speculativa, ma una bolla dove chiunque al suo interno bene o male sa di cosa sta parlando o quantomeno pensa tanto a questo settore, chi è all'esterno lo vede ancora come qualcosa che non impatterà nel mondo cosiddetto reale. E qui appunto ogni volta si cerca di immaginare come la pensano i grandi fondi di investimento, cosa stanno facendo gli hedge fund, cosa stanno aspettando per poter differenziare o creare dei portafogli differenziati anche in Bitcoin o altri cripto asset. Da questo punto di vista come non leggere qualcosa che scrive Ray Dalio, perché? Perché lui è il fondatore di Bridgewater Associates che è il più grande hedge fund del mondo. Ray Dalio stesso ha come capitalizzazione personale miliardi di dollari, adesso non so che posizione è nel ranking dei più ricchi al mondo, comunque mi sembra in una scala su Forbes tempo addietro l'ho visto attorno alla posizione 50 o 60, insomma siamo a quel livello lì, miliardi di capitalizzazione personale, nonché appunto un fondo di investimenti enorme e poi proprio lo spessore della persona in quanto nella storia economica moderna ha sempre dato la sua, ha sempre avuto una lettura importante e anche degli apporti importanti in momenti critici. Ricordiamo ad esempio la crisi del 2008 e anche il supporto che ha dato per le decisioni in Europa. Il suo libro, Principles, è un libro che consiglio a tutti perché Principles è uno di quei libri da leggere nella vita, non è un libro semplice ma un libro che consiglio, visto che in tanti spesso mi chiedete quali libri leggere e ogni tanto do qualche spunto. Settimana scorsa la scena è stata presa dal coming out di Elon Musk che appunto, essendo poi lui il primo nel ranking dei più ricchi al mondo e l'influenza di Elon Musk è molto più conosciuta rispetto a quella di Ray Dalio, quantomeno nel mondo quando si esce fuori dai mercati finanziari. Ha preso praticamente tutta la scena e quindi ha coperto un po' questa notizia che comunque ho riportato insieme nello stesso video che vi linko. Ma vediamo cosa ci dice proprio Ray Dalio, parole sue, che ci fa questo bel post su LinkedIn e poi ci riporta anche un report dedicato sulle analisi che ha. Quindi innanzitutto in una premessa, perché è importante questo? Prima la faccio io la premessa, perché è importante questo? Perché adesso possiamo fare una fotografia temporale, possiamo entrare nella testa di chi ha fondato il più grande hedge fund al mondo e quindi capire come gli hedge fund stanno approcciando a questo settore e perché magari non si sono ancora portati del tutto in investimento, quindi investendo proprio su Bitcoin o quello che stanno facendo o quel che stanno aspettando. È importantissimo, senza farci troppe idee lo possiamo direttamente leggere. La sua premessa è attenzione a quello che scriveranno i media perché molte dichiarazioni vengono spesso riportate in un certo modo e possono andare contro o a favore di un argomento in base alla loro predisposizione. Quindi hanno una predisposizione, io dico una cosa, può essere interpretata in un modo e essere messa su una notizia in modo positivo o negativo. Come ogni cosa, ci dice lui, ci sono sempre dei pro e dei contro ed è quello che cerco sempre di analizzare. Però se volete sapere cosa ne penso su Bitcoin, dice Ray Dalio, ve lo dico direttamente qui. E quindi questo è tutto quello che voglio riportare su Bitcoin. Io stesso quando riporto la notizia, essendo io predisposto in modo positivo, l'ho riportata in modo positivo. Ma ho sempre detto, secondo me Ray Dalio non è una persona che si sbilancia in modo positivo o negativo, cerca sempre di valutare in modo oggettivo le cose, il più oggettivo possibile. Proprio chi ha letto i suoi libri lo sa, lui cerca di essere iperrealista, quindi guardare le cose in un modo iperrealistico, senza darci una sfumatura personale. E da questo punto di vista si è sempre dimostrato così anche su Bitcoin, rimanendo neutro direi io. Ma le sue affermazioni sono poi queste. Credo che Bitcoin sia una gran bella invenzione. Aver inventato una nuova forma di moneta su un sistema programmato su computer e che ha funzionato per circa dieci anni, ha preso così velocemente popolarità, sia come forma di moneta, sia come riserva di valore, è un conseguimento, è un raggiungimento incredibile. Addirittura fa un parallelo con l'epoca dei medici, quando fu introdotto il sistema del credito bancario, attorno al 1350. E appunto ci dice, facendo l'invenzione, cioè facendo la ricchezza degli inventori, coloro che hanno adottato questo sistema sin dall'inizio, e potenzialmente facendo ricche molte molte persone, con il potenziale addirittura di distruggere l'esistente sistema monetario. Qui parla appunto sempre di Bitcoin. Tutti coloro che hanno costruito e supportato questo sogno di avere un nuovo sistema monetario, e l'hanno portato a realtà praticamente, hanno fatto un lavoro fantastico sostenendo questo sogno e portando Bitcoin, e quando dice Bitcoin lui dice Bitcoin è tutto l'ecosistema anche con competitors annessi, quindi parla del mondo crypto alla fine, fino a farlo diventare un'alternativa al loro, quindi gold-like. Da questo punto di vista è interessato Ray Dalio, perché ci dice non ci sono molte alternative gold-like come asset, in questo tempo invece in cui ce ne serve veramente tanto, in cui l'esigenza di avere asset in stile oro è veramente importante, si fa sempre più forte. Proprio perché non ce ne sono così tanti di alternative all'oro, a questo punto, soprattutto, Sorovello che possono essere detenuti in modo privato, e vista anche la grandezza che è molto ridotta di questi mercati, c'è una possibilità che Bitcoin e i suoi competitor possano riempire questo vuoto, o appunto andare a risolvere questa esigenza, questo bisogno. E qui la parte che ho sottolineato o evidenziato in modo più forte, sembra che Bitcoin abbia avuto successo nel superare quella linea, e passare da un'idea molto speculativa, e qualcosa che poteva non essere sostenuto a lungo, quindi avrebbe avuto una vita corta, a diventare qualcosa che probabilmente rimarrà qui per lungo tempo, ed avrà un valore nel futuro. Le più grandi domande che mi faccio, dice Redalio, sono, realisticamente parlando, quale potrebbe essere l'utilizzo di questo asset, e quindi la sua domanda, perché sappiamo che, siccome la supply è conosciuta, per stimare il suo valore, il suo prezzo in futuro, dobbiamo capire come evolverà la domanda. È proprio quello che dico praticamente sempre in tutti i miei video. Bitcoin, da un certo punto di vista, è anche semplice, cioè, sapendo che la supply funziona in quel modo ed è programmatica, a questo punto dobbiamo solo, tra virgolette solo, capire come evolverà la domanda per questo asset. Qui però comincia a mettere qualche lato negativo. Qual è il rischio che vede in questo settore? Come Bitcoin, è vero che Bitcoin ha una supply limitata, però le digital currency non sono limitate, in quante se ne possono creare. Infatti già oggi ne esistono tantissime. Spesso e volentieri ho messo anch'io questo concetto. Qual è il più grande danno, sempre virgolettato, che fanno le altcoin di una certa tipologia, soprattutto quelle che non vogliono risolvere una problematica, ma cercano solo di fare antagonismo? Quella di creare sempre più alternative. Quindi anche se la supply dei Bitcoin è quei 21 milioni famosi, poi effettivamente se si affianca a Bitcoin, e quindi si divide il mercato con diverse fette per diversi altri progetti, tutti con una loro supply, effettivamente questa scarsità comincia a diminuire. E in più, che cosa dice Ray Dalio? Non è detto che questa tecnologia sia quella definitiva, perché sappiamo che ogni cosa è sempre stata presa e sostituita da qualcos'altro che funziona meglio. E secondo lui nel tempo potrebbe, cioè c'è una probabilità per cui arrivi una tecnologia migliore che magari sostituisca Bitcoin, magari una delle alternative che già esiste. C'è da prendere in considerazione che nella premessa lui dice di non essere un esperto del settore. Infatti questo ragionamento è molto diverso, ad esempio rispetto a un ragionamento che può fare un Bitcoin cosiddetto massimalista. Perché un Bitcoin massimalista, una visione che poi sposo anche io, è quella del dire che Bitcoin ad oggi è difficilmente replicabile, soprattutto per le sue origini. Perché sì, è vero, si può creare qualcosa di tecnologicamente più avanzato, che funziona anche meglio, ma come si fa ad oggi a ricreare le stesse condizioni iniziali con cui Bitcoin è nato? Quelle condizioni per cui non veniva considerato, per cui la sua diffusione è stata distribuita senza che ci sia stato sopra troppo peso, troppa attenzione, troppi occhi puntati e nessuno dietro. Cioè ricreare un Satoshi Nakamoto ad oggi è molto difficile e ricreare un progetto che non venga subito, diciamo, aggredito dalla speculazione, è altrettanto difficile, visto che il concetto di criptovaluta è molto più forte rispetto a quando Bitcoin nasce e l'esigenza per un qualcosa del genere è altrettanto più forte. Quindi se nasce un qualcosa che tecnologicamente parlando è molto più promettente, beh, è molto più facile per qualcuno metterci subito gli occhi addosso e magari entrarci pesantemente accentrando quello che è il controllo della moneta o quantomeno le sue riserve. Quindi le condizioni per cui Bitcoin si è diffuso sono difficilmente replicabili, a mio modo di vedere e a modo di vedere i tanti massimalisti, ma questo poi magari potrebbe essere anche sfatato dal tempo e dal futuro. Questa è una visione che appunto può vedere e mette a rischio l'asset anche secondo Reitalio. Poi ci dice, allo stesso tempo, ammiro davvero tanto come Bitcoin ha superato il test dei 10 anni, perché Bitcoin ha più di 10 anni adesso, ma non solo dal punto di vista del fatto che esiste da più di 10 anni, ma anche come la sua tecnologia ha funzionato così bene finora e non è mai stata hackerata, quindi non ha mai dimostrato segni di debolezza dal punto di vista tecnologico. Guardando più a larga scala, ci dice che pensa che ci sono buone probabilità che un giorno avremo un sistema finanziario che consisterà principalmente in forma digitale. E quindi questo è un grande potenziale per quello che sta facendo Bitcoin. Allo stesso tempo, e perché ci sarà anche un bisogno di un qualcosa che non sia facilmente attaccabile, allo stesso tempo, dice, mentre riconosco Bitcoin, il fatto che Bitcoin possa essere detenuto in forme private come cold storage, capisco la difficoltà nel farlo e vedo che molte e poche persone lo fanno realmente. Quindi anche qui, all'inizio del video vi parlavo della bolla in cui siamo, questa bolla cognitiva, non speculativa, al mio modo di vedere. Quindi chi è all'interno di questo tipo di conoscenza sa che c'è una forma di holding, di storage in forma di cold, quindi con gli hardware wallet, eccetera. Ma chi è all'esterno, a malapena sa Bitcoin, e quella è la gran parte della popolazione mondiale, non siamo noi, noi siamo una nicchia. Quindi chi è all'esterno non solo non lo fa, ma proprio non sa che c'è quella possibilità. Quindi quello che dice Redalio è giusto guardandolo in modo oggettivo, guardando il mondo in modo oggettivo. Poi ci dice, siccome pochi si muovono in questo modo, Bitcoin, essendo connesso e avendo proprio una forma digitale, non è protetto contro rischi cibernetici per quanto dovrebbe, cioè non raggiungere la soddisfazione che Redalio vorrebbe. E qui dice, ma sono pronto ad essere corretto. Quindi si pone sempre in modo molto umile. Velocemente vi faccio vedere anche il report più esteso. Questo è un post che lui ha fatto su LinkedIn, lo trovate proprio pubblico. Tra l'altro vi faccio vedere anche qualche commento proprio velocemente per vedere l'entusiasmo che ha generato. Un altro segno di criticità che vede è proprio come prenderanno i vari governi questa intromissione. Perché ovviamente non consentiranno un passaggio del genere in modo, diciamo, pacifico, ecco. È normale che sia così e come detto da sempre questo è uno dei più grandi rischi, ossia quello delle diverse battaglie che Bitcoin farà e poi questo si traduce anche nella sua volatilità perché ogni volta che si crea una problematica e quindi anche paura, incertezza e dubbio sul mercato lo si riscontra anche sul prezzo e Bitcoin subisce questa grande volatilità con questi cicli che ormai conosciamo. Siccome qui dimostra un po' di conoscenza, siccome è un public ledger, quindi come detto Bitcoin è molto trasparente, molto tracciabile, spesso e volentieri non è custodito in modo privato come si dovrebbe, secondo Ray Dalio è molto facile e sarà molto probabile per i governi andare a quantomeno mettere le mani su dati legati all'utilizzo, quindi a sapere chi, a cercare di regolamentare l'utilizzo, sapere chi ne fa uso e quindi comunque sia questo porta anche paura nell'utilizzare uno strumento che magari fino a qualche tempo prima era considerato anonimo o privato e invece non lo è perché poi nel momento in cui viene arriva la dimostrazione che un governo può vedere tutto quello che fai potrebbe questo frenare comunque le aspettative verso Bitcoin e quindi ci dice la domanda potrebbe anche andare a cadere, a diminuire. Quindi piuttosto che attaccarlo del tutto, distruggere in qualche altro modo i governi potrebbero invadere l'aspetto privacy o prevenire l'utilizzo di Bitcoin o dei suoi competitor e questo secondo Ray Dalio sarebbe un attacco molto più di successo rispetto a tutte le altre possibilità. che ha un governo per bloccare Bitcoin. Quindi qui ci riassume quando 1. Mi metto nei panni dei governi e 2. Vedo le loro azioni e 3. Sento quello che dicono. È difficile per me immaginare che acconsentiranno a Bitcoin o a loro di essere una scelta migliore ovvia rispetto al sistema monetario e di credito che loro stessi stanno producendo. Che cosa ci vuol dire? Che il miglior attacco che si può fare a Bitcoin è quello di andare a dire che non è una scelta migliore rispetto al dollaro o al sistema finanziario attuale. Quindi in qualsiasi modo si andrà ad infangare ad attaccare magari con strumenti di controllo attaccando la privacy tutto quello che sarà Bitcoin e questo ha un'alta probabilità io sono d'accordo con Ray Dalio questo accadrà sempre di più. Sospetto dice Ray Dalio che più Bitcoin avrà successo e più aumenteranno questi tipi di attacco che cercheranno di impedire questo sviluppo ed hanno molta probabilità di avere successo. Poi passa nuovamente a degli aspetti che possono essere positivi e fa addirittura delle proiezioni sul prezzo su quanto potrebbe aumentare il prezzo se determinati asset andranno ad essere riversati proprio in Bitcoin. Quindi ci dice se il 10% o il 20% o il 30% o il 40% o il 50% di tutti i holding dell'oro quindi tutti coloro che possiedono oro in modo privato andranno ad essere spostati su Bitcoin per diversificare a quel punto Bitcoin potrebbe veramente avere una crescita interessante. Qui più che altro fa delle domande perché dice cosa potrebbe succedere se il 10% o il 20% si sposta oppure cosa succede se buona parte di chi possiede non so altri asset come azioni o bond obbligazioni eccetera si sposta per diversificare in Bitcoin come potrebbe diventare questo scenario e questo crea appunto uno scenario molto incerto verso il futuro e c'è un report che poi adesso appunto vi faccio vedere questo è il motivo per cui questa è la frase conclusiva con cui conclude appunto Redaglio secondo me Bitcoin è una opzione di lunga durata verso un futuro incerto e un'opzione dove metterei dei soldi dove appunto non andrei a disperarmi se questi perdessero anche più dell'80% quindi la classica frase occhio perché è da folli questo lo aggiungo io è praticamente quello che dice e non lo può dire in questo modo è da folli non valutare come opzione Bitcoin perché sta prendendo piede come un'opzione per il futuro io personalmente aggiungo è da folli non avere un qualcosino in Bitcoin allo stesso tempo bisogna considerare che quello che si mette in Bitcoin è tutto ciò che possiamo permetterci di perdere e non solo l'80% ma io direi anche potenzialmente in modo totale e questo è quello che si dice sempre mi piace tantissimo la frase finale dove dice sono molto affamato bramoso di essere corretto e di imparare di più un esempio di persona intelligente dall'altro canto credetemi quando vi dico che io e i miei colleghi at Bridgewater sono altamente focalizzati sulla ricerca di riserve di valore alternative e asset che possono conservare la ricchezza quindi stanno attentamente osservando e monitorando il mercato è il loro lavoro soprattutto perché in questa fase spesso ci ha detto di come il sistema globale è a rischio e vi rimando al video che ho fatto e qui ci ricorda quando uso la parola Bitcoin tenete in considerazione che con Bitcoin intendo anche tutti gli altri competitor analoghi e poi qui ci sono tanti bei commenti che poi vi potete leggere proprio su questo che ha scritto il report di cui parla è un report molto più estensivo che vi inviterei a leggere per questioni di lunghezza del video non voglio coprirlo interamente ho letto appunto questo report per intero ve lo lascio in descrizione così per chi vuole approfondire troverà il materiale voglio solo farvi vedere alcuni punti velocemente ripercorre quello che ha detto nella sintesi di quel post su LinkedIn questi sono tutti studi che avvengono grazie agli analisti che lui ha tra i migliori analisti al mondo che studiano il mercato quindi mai nessuno di noi potrà avere un accesso a certi dati o una visione di questo tipo dobbiamo solo che leggere queste cose cercare di imparare più possibile nel tempo e appunto come detto questa è la fotografia del presente su Bitcoin in questo report si legge tra le varie cose dati tutti i determinati fatti qui spiega appunto di Bitcoin parla anche di altre monete Bitcoin come ha diciamo preso mercato su alternative come Bitcoin Cash Litecoin Monero eccetera insomma c'è da leggere data la natura di Bitcoin la sua natura digitale Bitcoin potrebbe essere la riserva di valore più portabile in assoluto nel mondo molto di più che il cash fisico ci sono delle cose che appunto va a spiegare qui ci fa vedere quanti ATM già esistono nel mondo quindi come si possa tornare subito liquidi anche in cash tramite Bitcoin in questa parte invece ci dice che ancora non è chiaro però se la diversificazione del portafoglio in Bitcoin quindi avere anche Bitcoin nel proprio portafoglio porta poi dei benefici e soprattutto ci ricorda del fatto che ancora ha uno storico molto molto corto e non si capisce dallo storico che vediamo se è migliore dell'oro a livello di diversificazione ma potrebbero essere potrebbe esserlo magari in futuro quindi esitano a dare conclusioni definitive anche perché chi opera a livello professionistico ad altissimo livello e qui parliamo del massimo livello che si ha non si sbilancia in così poco tempo queste cose non vanno così veloci e per questo è il motivo per cui noi siamo abituati a un mercato così frenetico che evolve tutti i giorni che ogni giorno praticamente quando si parlava di DeFi sembra già una cosa vecchia ed è solo di qualche mese fa in realtà la cosa è più che viva e ancora pronta ad esplodere lo stiamo vedendo proprio in questi giorni ma in generale tendiamo a pensare che cose di un mese fa siano vecchie in realtà a questo livello qui si fa la differenza ci si muove con molta più cautela anche perché i grandi cicli avvengono in modo molto più lento su archi temporali molto più larghi quindi bisogna mettere tutto con le giuste prospettive le giuste proporzioni quello che cerco sempre di fare in questo mio canale certe conclusioni portano a dire che Bitcoin l'abilità di Bitcoin di offrire appunto dei vantaggi dalla sua diversificazione ad oggi sembrano più teoretici più teorici che reali proprio per quello che è successo ancora negli ultimi anni e la sua volatilità poiché ha avuto ancora in tanti utilizzano Bitcoin per la maggior parte per aspetti speculativi quindi il classico trading in effetti il trading è quello che va per la maggiore tanti si avvicinano a questo mondo e parlano solo di trading io stesso che parlo di Bitcoin non parlo quasi mai di trading vengo contattato da tante società da tante aziende da tante persone che vorrebbero collaborare con me e mi definiscono tu che fai trading in Bitcoin tu che tradi Bitcoin o in generale appunto è sempre difficilmente distinguibile per alcuni l'aspetto Bitcoin concettuale come forma di utilizzo come forma anche di investimento a lungo termine come diversificazione o edge contro un'infrazione rispetto a fare speculazione rispetto a fare trading alcuni vedono solo quell'aspetto perché in effetti è l'aspetto ancora tuttoggi più diffuso la ragione per cui Bitcoin nel suo prezzo è salito tanto negli anni è puramente legato alla speculazione e questo quindi porta a alcune conclusioni qui da questo report che ci dicono ancora è così quindi è difficile dire se in futuro sarà preso sempre di più come asset alternativo o comunque gold like però è quello per cui si stanno interessando diversi fondi di investimento ripeto sto sorvolando molto veloce qui ci sarebbe da parlare per ore a mio modo di vedere vi lascio la lettura qui ci fa un parallelo ad esempio con l'oro e quanto quanta volatilità di trading ci sia su Bitcoin che è la linea in blu rispetto all'oro quindi quanto l'oro sia molto di più un asset che conserva il suo valore e sia meno tradato cioè le persone che hanno oro lo comprano lo mettono da parte per Bitcoin è un trend che sta aumentando ma tanti lo comprano per avere una speculazione e un ritorno veloce ragionano molto in dollaro e la speculazione che si è vista soprattutto nell'ultimo periodo dice rispecchia molto quella delle bolle infatti c'è un entusiasmo che appunto sta portando di nuovo il retail ad investire e solitamente la maggior parte del retail proprio i ragionamenti appena fatti investe perché vuole speculare ossia perché vuole prendere un qualcosa che oggi vale un tot e magari rivenderla ad un prezzo più alto quindi fare trading a livello speculativo questo è per la maggiore il motivo per cui si avvicinano il retail e per come viene preso bitcoin questo porta anche a gonfiarsi di alcune bolle e ci ricorda che comunque delle dinamiche delle bolle per alcune durano anche un periodo prolungato quindi forse siamo entrati nuovamente in una nuova fase dove si sta creando una nuova bolla la cosa è anche probabile abbiamo visto che bitcoin si è mosso così per diverso tempo e vedremo quando questo tipo di andamento andrà a finire nel tempo molto probabilmente ci vorrà ancora un po' soprattutto perché deve cambiare la concezione che hanno le persone di bitcoin e qui ci fa vedere appunto alcuni grafici e soprattutto questo qui dove ci fa vedere che ancora l'interesse soprattutto legato alle ricerche della parola bitcoin su google è ancora molto basso rispetto a quelle del 2017 quindi sta iniziando nuovamente invece rosso è il prezzo sta appunto arrivando nuovamente entusiasmo e tutti i presupposti per una nuova bolla ma ancora forse siamo solo all'inizio tutte queste cose portano appunto a considerare bitcoin più rischioso rispetto ad altri asset quindi asset finanziari come equities commodities oppure altre riserve valore come ad esempio l'oro inoltre tutto questo interesse istituzionale porterà per forza di cose anche magari delle regolamentazioni le regolamentazioni non devono essere per forza vista come qualcosa di negativo se vogliamo ragionare in termini di adozione perché il motivo principale per cui grandi fondi di investimento non stanno avvicinando a bitcoin qui ce lo dice proprio Reitalio perché lo dice proprio nei panni di Bridgewater dice perché perché Bridgewater non sta comprando bitcoin perché mancano determinate cose e tra queste sono ad esempio degli strumenti finanziari come gli etf etf di cui si parla tanto che magari potrebbero anche arrivare viste le regolamentazioni che stanno arrivando dopo l'interesse di tanti istituzionali tutti questi ragionamenti portano a dire che ancora il rollercoaster di bitcoin potrebbe continuare ancora per alcun per qualche tempo qui c'è una tabellina sui strumenti finanziari già esistenti e le differenze tra il 2017 e il 2021 tra le più importanti ad esempio quelle di derivati su exchange tradizionali perché prima i derivati erano solo su exchange del mondo cripto adesso sono arrivati tanti nel mondo tradizionale proprio nel 2017 arrivano i primi appunto i futures sul CBOE sul CME adesso ci sono le opzioni ho seguito tutto il percorso da questo punto di vista quindi ogni nuovo strumento che arrivava comunque è stato riportato annunciato per tempo magari poi è durato anche tanto se ne è parlato tanto nel 2019 nel 2018 quelle fasi di bear market in cui si costruisce tanto il mondo cripto sembra morto perché il prezzo non sale non c'è euforia ma in realtà sono quelli i momenti in cui si costruiscono le cose e semplicemente si lavora tanto ed è proprio da lì che ho capito che questo mondo sarebbe tornato nuovamente a crescere quando vedi che comunque si sta creando tanto intorno adesso in questa fase siamo entrati in una fase euforica dove i prezzi si confiano tanto ma è solo il culmine di un qualcosa di precedente va letto tutto appunto sul time frame più allargati e gli aspetti di custodial quindi tutti quei servizi che offrono una custodia per terzi di bitcoin è quello che si aspettava anche per gli investitori un grande investitore un grande fondo di investimento non può pretendere di avere nella sua sicurezza un ledger che è messo in cassaforte cioè gli investitori non andrebbero mai ad affidarsi a una cosa del genere ci vuole un servizio che lo faccia per bene e quindi tutti questi aspetti portano un progresso di cose e un'alta allenanza spesso e volentieri il prezzo sale molto di più quindi si spegola molto di più rispetto all'attuale condizione generale dell'ecosistema e ad esempio un altro strumento molto importante lo dice lo stesso Redaglio potrebbero essere gli etf qui ci fa vedere ancora la diffusione tra appunto i wallet privati e quelli che sono gli exchange le monete perse la custodia insomma per la maggiore ancora tutti sono in wallet privati la maggior parte dei bitcoin e poi ci fa appunto quelle proiezioni in base agli scenari in cui si iniziasse a diversificare parte di altri fondi proprio in bitcoin quindi al momento bitcoin come capitale rappresenta meno del 10% rispetto alla capitalizzazione dell'oro in custodia privata quindi questo potrebbe crescere nel tempo se tutti i dentori d'oro ad esempio anche solo quelli andassero ad interessarsi a bitcoin quantomeno per differenziare questo porterebbe una crescita di capitalizzazione e una crescita del prezzo quindi con proiezioni che potrebbero portare i btc anche verso gli 85 mila dollari queste sono proiezioni che fa proprio bridgewater e questo aspetto è anche conservativo infatti non tiene in considerazione del fatto che essendo molto scarsa la liquidità essendoci poca liquidità per bitcoin una domanda aumentata potrebbe portare i prezzi a salire anche in modo molto più veloce ossia la caratteristica che vediamo in quegli spike o indefinibili anche bolle l'aspetto liquidità sembra essere molto importante chiaro che lo sia per tutti gli investitori lui stesso ci dice bitcoin come mercato comincia ad entrare in quella fascia di mercati dove lo stesso bridgewater investe la problematica però è che la liquidità non è comparabile ad altri mercati infatti vediamo che la liquidità in bitcoin lo vediamo a questa tabellina è molto più bassa rispetto alle liquidità di altri mercati come ad esempio quello dell'oro che è uno dei mercati più liquidi al mondo delle obbligazioni o delle equities quindi perché spaventa perché investitori che hanno grandissimi capitali quindi su un livello proprio al massimo di player finanziari hanno paura che poi magari non c'è la possibilità di vendere quindi non c'è abbastanza liquidità per poter scambiare l'assetto acquistato quello che poi potrebbe portare la fine di una bolla in modo disastroso ed è per questo che ne stanno con quanto meno lontani o tendono a non entrare in questo settore l'aspetto liquidità anche perché se rimane così la liquidità questa è una frase che ho voluto sottolineare un piccolo numero di investitori facendo anche pochi spostamenti ma appunto investitori di alto livello potrebbero cambiando il loro asset allocation impattare in modo forte sul mercato bitcoin e questo è un rischio per un investitore cioè un investitore che investe in bitcoin e compra magari a 40.000 dollari non può pensare che un altro suo competitor un altro grande un'altra grande balena va poi a muovere un quantitativo e cambiare il prezzo solo perché quella mattina voleva vendere qualche bitcoin e magari comprare più oro e questo non può impattare in modo così pesante sul mercato e questa è la grande differenza che c'è ad esempio con l'oro perché l'oro non si impatta in questo modo qui anche se viene scambiato in modo pesante non va a cambiare il prezzo anche perché l'oro è schiacciato dai derivati praticamente lo spot market dove si scambia oro è una liquidità molto più bassa rispetto a tutti i derivati sull'oro i futures le opzioni quindi più che altro nel mercato avviene una grande liquidità di derivati più che sul sottostante invece per bitcoin ancora la maggior parte è proprio il sottostante e qui fa vedere la differenza di liquidità tra il mercato di oro e di bitcoin questi aspetti tengono lontani i grandi fondi di investimento come ad esempio Bridgewater poi prende in considerazione tutte le future challenge che bitcoin dovrà affrontare e quindi la sua conclusione e la conclusione di questo report ben studiata ben fatta da punto di vista di un hedge fund ci dice bitcoin per ora dà la sensazione di essere più un'opzione per una potenziale riserva di valore che una riserva di valore vera e propria questa è la definizione finale che ci dà il fondatore e tutti gli analisti di un se non del più grande fondo di investimenti o hedge fund del mondo se siete arrivati fin qui vi ringrazio per la pazienza però credo che questi aspetti sono veramente importanti per capire realmente cosa sta succedendo senza farsi distrarre dal rumore che arriva nella volatilità di tutti i giorni e in tutte quelle previsioni bitcoin arriverà a 50.000 arriverà a 100.000 adesso arriva questo adesso arriva quell'altro questo è lo stato dei fatti per capire appunto dove ci stiamo dirigendo e in che fase ci troviamo nella storia di bitcoin una storia super breve perché ha 10 anni però appunto il suo potenziale è molto elevato soprattutto perché adesso ci cominciano a mettere gli occhi sopra questi signori qui e questi signori qui sono quelli che cambiano le sorti dei mercati sono loro che praticamente decidono se un asset vale o no non tanto i retail questa è la realtà dei fatti ovvio che ad oggi la bellezza e l'unicità di bitcoin è proprio quella di essere partita in forma bottom up quindi se un giorno arriveranno anche loro appunto cosa che si sta vedendo sempre di più i primi a beneficiarne questa volta saranno proprio tutti coloro che ne hanno cominciato ad accumulare per tempo scommettendo su un qualcosa o avendo avuto una lungimiranza di un certo livello quindi cosa conviene fare cosa dico sempre quantomeno capire cos'è bitcoin e capire perché ci sono questi ragionamenti per iniziare magari potrebbe essere molto interessante leggere un report come questo qui per avere un punto di vista e poi a confrontarne con altri e farsi la propria idea nel tempo ci vuole tempo non è una cosa veloce non è una cosa semplice come questo